Ammonta 2 milioni e mezzo il finanziamento ottenuto dal Comune dell'Aquila nell'ambito del bando promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per la misura Sport e Inclusione Sociale. Con questi fondi si potrà procedere alla realizzazione di un'area polivalente e alla copertura della pista di pattinaggio nel complesso sportivo di Santa Barbara, per un costo di un milione e mezzo di euro e poi a una cittadella dello sport nella frazione di Roio del valore di un milione. In particolare l'impianto di Santa Barbara ospiterà nella settimana dal 3 all'11 settembre gli europei di pattinaggio a rotelle, un evento che porterà in città circa 300 tra atleti e accompagnatori provenienti da 20 paesi europei. Sarà una manifestazione di alto livello sportivo, parteciperanno a tantissimi campioni europei e anche mondiali in carica e partirà dall'Aquila il giorno 3 settembre con la cerimonia di inaugurazione. Si trasferirà quindi il 4, il 5 e il 6, ci saranno le gare sul pista per quanto riguarda il campionato europeo di corsa sul pista. Si trasferirà il 8 e il 9 al circuito che ricaveremo dentro l'aeroporto dei parchi a Preturo per poi proseguire l'11 mattina con le maratone in Viale Corrado IV. La pista è stata rimessa a nuovo per ospitare i campionati europei e già prima per gli internazionali. Adesso per gli europei è stata riottimizzata, è stato fatto un restyling totale, però è un restyling di facciata, può durare poco. Infatti il sindaco Biondi e l'assessore allo sport Colonna hanno già previsto il rifacimento della pista stanziando 300 mila euro e questo avverrà entro, credo, il prossimo aprile-maggio. In più la copertura totale della pista, i fondi sono stati approvati, sono stati messi a disposizione, ma non so quando partirà il progetto di inizio lavori per la copertura totale. Certo, diventerà la pista più importante di Europa, questo è poco ma sicuro. Grazie a tutti.